Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e il suo ex, incontri segreti a casa sua La famiglia più perfetta e social di Instagram. La crisi e poi la rottura. Non è una puntata di Beautiful. Ha lasciato tutti a bocca aperta. La plomb da mantenere in circostanze come questa. I fan sono preoccupati soprattutto per le sorti del piccolo Santiago perché tra i due litiganti, spesso, è solo il figlio che non gode e va in mezzo a discussioni e problemi logistici. Quindi, ricapitolando, Santiago, nella semi-incoscienza della sua età, vive il distacco dei genitori, Stefano ha fatto le valigie ed è andato a vivere altrove. E Belen? Qualcuno spiffera che abbia trovato il modo di occupare il tempo libero e che questo status single stia un po' stretto. A presto.